Lasciatemi sottolineare che si tratta di un atto ostile di estrema gravità. Sulla vicenda della Russia è una cosa piuttosto seria, perché anche da Londra hanno detto che la Russia minaccia. Bisogna tenere la guardia alta, bisogna tenere la guardia alta e l'operazione che parte dai nostri servizi di informazione e sicurezza, poi ovviamente con il Russia l'autorità giudiziaria dimostra come sappiamo tenere la guardia alta e sappiamo intervenire nella maniera più esemplare possibile in un caso del genere. Grazie